Buonasera, salve amici! Grazie! Vi ringrazio! Tom! Sì, sono io! Vattene Hank! Ma Ben vuole che tu... Tom, scendi subito giù! Siamo in ritardo sul programma di ben 12 minuti! Andiamo! Dovresti dare ascolto a Ben! Invece io penso davvero che dovrei tornare nel mondo dei sogni! Aiuto! Atroce discesa di scale! Allora, buongiorno, Tom! È un piacere vederti! Ti è piaciuto il mio nuovo dispositivo meccanico? L'ho chiamato Tira fuori Tom dal suo letto e portalo al lavoro puntuale! Forte, eh? Che ne diresti di chiamarlo invece? Svegliamo Tom così roviniamo il suo magnifico sogno! Un sogno nel quale ho potuto vedere il futuro! Tutti amavano il nostro spettacolo e tutti ci adoravano! Proprio tutti! Sì, tutti qua! Davvero? Hai raggiunto il successo svegliandoti in ritardo e ignorando l'impegno necessario per ottenerlo! Sì! 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 Grazie per la visione!